Preferivo la settimana sua. Sono un vero dedalo di strade, alcune bianche, altre asfaltate che si inerpicano sul Monte Giove e si diramano in molte direzioni e chi le percorre gode di un bellissimo panorama. Sono meta di cicloturisti e di passeggiatori amanti della natura. In effetti, passandoci, si si trova immersi in una folta area verde. Ma una residente del luogo ci ha contattato mettendoci di fronte ad una problematica non da poco, almeno per chi non è del luogo. I nomi delle strade e le loro identificazioni attraverso le apposite tabelle, come siamo solitamente abituati, non sono presenti in tutte le diramazioni o biforcazioni. Oltre che diramarsi tutte dalla madre di tutte le strade, la strada comunale di Monte Giove. Ma il labirinto innominato in alcuni punti diventa anche paradossale, anche perché un solerte funzionario comunale ha candidamente ammesso che i nomi ci sarebbero. E allora? Un funzionario ci ha risposto dicendo che in realtà lui era in possesso di una mappa che indicava dei nomi di vie. Quindi abbiamo scoperto che una si chiama Carampana 1, che una si chiama Carampana 2, che un'altra si chiama strada vicinale. Però lo sa soltanto lui. Cioè è un dato, diciamo, criptato. E allora perché? Ora, se qualcuno volesse raggiungere una di queste abitazioni per fare visita ai suoi abitanti, poco male. Se non avesse questa fantomatica mappa del tesoro, gelosamente custodita nei cassetti in comune, con un gira qua, arriva l'incrocio e svolta là, ce la si cava. Non essendo, tra l'altro, le diramazioni nemmeno mappate dal navigatore più usato al mondo. Il vero problema però sorge con le chiamate d'emergenza, a 118, forze dell'ordine o vigile del fuoco, come avvenuto recentemente. Sì, ci crea prensione perché comunque quando dobbiamo segnalare qualche cosa, che può essere un albero caduto, perché ha un temporale, ha una levicata, ne cadono, ha una perdita d'acqua, ha un nido di vespe ma anche ha un problema di salute. Chiamare e indicare dove siamo è un po' complicato. Una delle ultime occasioni ci ha risposto una centrale di vigili del fuoco, che peraltro sono tempestivi, per amore del cielo, però di Pesaro. Quindi era per la serie, lei da Pesaro, viene a Fano, prende la Framinia, dopo l'arco d'Augusto, poi prende la prima di qua, la prima di là, poi scende, poi sale. È una cosa complicata perché comunque i pochi cartelli che ci sono, sono univoci. Però ecco, pensiamo a un attimo, a un cittadino che penso debba avere il diritto di sapere dove cammina, deve avere il diritto di indicare dove sta, per qualunque emergenza. Ecco, allora chiedete a questo punto che visto che ci sono i nomi mettiamoli. Sì, perché sono tante le vie, questa mattina ne abbiamo viste qualcuna, ma ve ne potrei indicare tante altre così.